Nome? Paolo. Cognome? Noto. Età? 22 e mezzo. E città natale? Città natale Asti. Lavoro? Lavoro come barman nel mio locale a Castagnone delle Lanze e tante serate in giro per il mondo. Classico o freestyle? Classico. Perché? Perché freestyle devo imparare prima o poi, vorrei farlo ma in questo momento non mi sono in grado, a casa ci provo ma faccio disastri. Nome del locale? Steffi Bar Trattoria. Cosa ti piace del tuo lavoro? Mi piace stare a contatto con la gente e parlare, comunicare, non sapere i fatti degli altri però comunicare diciamo e poi tutto il mondo dell'alcol perché ho notato che quando vado in giro mi perdo nell'alcol. Hobby? Hobby è l'alcol, la musica, tanto perché mi piace girare per concerti e cose così e poi ho delle donne, motore, donne, più che altro donne. Il nome del tuo cocktail absolute? La madele queen. Perché dovresti vincere tu? Io non vinco, sincero io non vinco. E fai un saluto? Hola? Ah sì, allora, come hai?